In Francia la curva Covid-19, che sinora ha fatto oltre 17.000 vittime, è in fase discendente. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, il Paese ha registrato una diminuzione del numero di pazienti negli ospedali, circa 500 e meno rispetto al giorno precedente, e per il settimo giorno consecutivo si è verificato un calo dei ricoverati in terapia intensiva. Per affrontare la crisi, anche economica, il Governo ha annunciato un pacchetto di misure da 110 miliardi di euro, tra cui l'aiuto finanziario alle famiglie a basso reddito. Al contrario, il Regno Unito conosce le sue ore più buie. Solo in ospedale sono morte nelle ultime 24 ore 761 persone, un numero non esaustivo in considerazione del fatto che nel bilancio delle vittime non vengono inseriti i decessi nelle case di cura. Purtroppo, dice l'ufficiale medico a capo della task force governativa, riteniamo che ci possa essere ancora un numero elevato di morti, sicuramente per un breve periodo, a partire dal livello attuale. Una situazione da gestire, e in agenda il ministro degli esteri Dominic Rabb presenta oggi il piano per un'estensione dell'isolamento, potenzialmente per altre tre settimane. La diffusione del contagio sembra invece contrarsi in Italia, dove il Governo Conte sta gradualmente consentendo la riapertura di alcune attività. La Lombardia, regione tra le più colpite dall'epidemia, ha chiesto la ripresa delle attività produttive, a partire dal 4 maggio, il giorno dopo la fine dell'attuale blocco di contenimento in Italia. Anche la Germania guarda oltre lo steccato e programma il ritorno alla normalità. La cancelliera Angela Merkel prevede la riapertura di piccoli negozi già dalla prossima settimana, ma saranno mantenute rigide regole di distanziamento sociale. Le scuole resteranno chiuse fino al 4 maggio e i controlli alle frontiere rimarranno in vigore per altri 20 giorni. E se normalità deve essere, è all'esame la ripresa della stagione della Bundesliga a porte chiuse.